Beppe Convertini. Retroscena su Valeria Marini. Fu amore a prima vista. Beppe Convertini. La rivelazione su Valeria Marini. E, stato amore a prima vista. Quella corrente è sicuramente l'estate di Beppe Convertini. Il tanto apprezzato conduttore la sta infatti facendo da protagonista sul piccolo schermo. Dai primi di luglio Convertini guida insieme ad Anna Falchi Uno Weekend. Mentre in questi giorni è iniziata la nuova avventura del presentatore. Ovvero il programma azzurro Storie di Mare. Beppe Convertini ha parlato al settimanale Ora. Citando anche la grande Valeria Marini. Tra i primi ospiti del conduttore del nuovo format che va a toccare diverse regioni italiane. Facendo riscoprire le bellezze nostrane ai tanti abitanti del bel paese. La tappa in Sardegna ovviamente include la stessa Marini. Che ai tempi del primo incontro ha subito colpito Beppe Convertini. Con Valeria è stato amore a prima vista. La definirei stellare. Lei è così energica. Intelligente e poi ci capiamo al volo. Basta guardarci negli occhi. Ha affermato il presentatore al settimanale. Beppe Convertini su Azzurro Storie di Mare. E, un viaggio alla scoperta dell'amore. Beppe Convertini non si ferma più. Dopo l'ottimo lavoro svolto insieme ad Anna Falchi. Per il conduttore cinquantenne è giunto già il momento di calarsi in una nuova avventura. Azzurro Storie di Mare è il programma che vede Beppe Convertini alla conduzione e così lo ha presentato al settimanale Ora. Il programma è un viaggio alla scoperta del mare come contenitore di vita per comprendere i Delicati meccanismi del più grande serbatoio di biodiversità del pianeta. Siamo in viaggio alla ricerca delle più belle coste italiane. Beppe Convertini elogia Linea Verde. Amo questi programmi. Oltre a presentare Azzurro Storie di Mare. Beppe Convertini parlando ora si è soffermato anche su un altro suo programma che conduce con successo. Linea Verde. Amo questi programmi di territorio. Mi piace andare alla scoperta dell'Italia, ha rivelato il presentatore Rai.